Orteggio, la gestione degli spazi, dei tempi, di tutto quello che ha a che fare proprio con la vita quotidiana, torna al centro dell'attenzione, torna al centro dell'attenzione con una posizione che è abbastanza determinata, quella dell'avvocato Giuliano, che parla addirittura di revoca a questo punto di Siracusa del nostro territorio dalla lista del patrimonio dell'umanità, perché sostanzialmente non ce lo meritiamo più. Esattamente, diciamo che è quasi una provocazione questa. Il problema dell'UNESCO e la sua efficacia in questi anni è stato oggetto di molte critiche, di critiche generalizzate, grandi giornali esteri ne hanno parlato, l'ultimo articolo è uscito su Le Monde Diplomatique dove un paginone diceva queste dichiarazioni UNESCO di fatto non fanno altro che essere calamita di questo turismo di massa. Non solo questo, io aggiungerei, perché ho fatto l'esperienza, che la dichiarazione UNESCO dal punto di vista dell'efficacia amministrativa non ha giocato nulla. Qua a Siracusa è rimasta esclusamente una targa, una grande capacità di attrazione, di turismo sostanzialmente non attento, perché certamente questo uso della città storica è un uso di turpanti in questa maniera. E' il paradosso. Dopo tanti anni di combattimento per salvare Ortigia, oggi questa eccessiva attenzione di carattere numerico più che di carattere quantitativo non c'è dubbio che sta portando la città a un'altra cosa. A voi contestano proprio a questo proposito la presunta intenzione di paralizzare Ortigia, di renderla un mortorio e quindi né di ripopolarla dal punto di vista dei residenti né di aiutare l'economia locale. Sostanzialmente è questa l'accusa che vi viene mossa? Sì, è un'accusa non soltanto che sono tutte battaglie fatte dai quattro residenti, parrucconi eccetera eccetera. Certamente il problema Ortigia è diventato il polo di sviluppo della città, con un impoverimento delle altre parti della città. Potrebbe essere tutto quanto diffuso, è uno degli elementi su cui noi stiamo battendo, cioè dire come può essere Ortigia, polo di sviluppo, come dire l'elemento motore degli altri cinque quartieri. Ridistribuendo tutto quello che Ortigia attrae, questo che significa? Significa fare una politica che possa da una parte rivitalizzare il centro storico. Non c'è dubbio che la residenza va ad estinguersi e con la residenza, non tanto perché è importante in termini di persone, ma con la residenza si perde il genio soloci, si perde la qualità urbana. Sostanzialmente, come dire, questa anima della città si è spostata nelle parti alte, cioè se voi andate nelle parti dello Zecchino, se andate nelle parti della Mazzarona, non c'è dubbio che quella che era l'esperienza della città, della città minuta, della città media, non c'è dubbio che si è spostata là come si è spostata nelle zone attorno al Tribunale Nuovo eccetera eccetera. Il Comitato Ortigia Sostenibile parla in questi giorni di proposte come quella, ad esempio, ha fatto discutere moltissimo anche, è relativa all'introduzione di un ticket? Sì, questo in molte città avviene in effetti, a Venezia si paga, il ticket potrebbe essere utile, come del resto la tassa di soggiorno, potrebbe essere utile per veicolare sia la manutenzione della città storica, che ovviamente è l'occasione del pagamento del ticket, sia per poter riequilibrare sostanzialmente l'uso del territorio. In definitiva, chiederete la rimozione di Siracusa dalla lista Unesco? Allora là siamo, per quanto riguarda la rimozione, noi andremo a chiedere concretamente il fatto che venga messo nella lista a rischio, come Pompei, come Roma, come il centro di Venezia, come il centro di Firenze, come tante altre città storiche. Dicevo prima che Dresda, che era nella lista, prima è andata in blacklist e poi è stata espulsa, soltanto perché un ponte attraversava il fiume dalla parte della città, inizio del Novecento, alla città storica. Solo un ponte. E lì avevamo un equilibrio urbano sostanzialmente governato. Siracusa siamo in una situazione dove è possibile che non diventi Venezia, dove è possibile ancora un recupero in un gioco di equilibri. C'è un'altra proposta che facciamo e chiudo, quella di finirla col finanziare la legge speciale Ortigia, salvo che per momenti pubblici, perché ormai si danno soldi a chi ha soldi. Anche perché queste risorse possono essere utilizzate in altre parti più degradate della città, con obbimpegni, eccetera. Grazie a tutti.